Si apre un nuovo bando nel comune di Arezzo per poter presentare domanda per avere diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica per le case popolari. Ci sono però dei criteri tutti nuovi e ce li spiega l'assessore alla casa Tiziana Nisini. Innanzitutto potrà partecipare al bando chi risiede in ambito regionale da almeno 5 anni o comunque abbia un'attività lavorativa ed esclusiva principale nel territorio regionale. Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo a chi risiede nel comune di Arezzo da almeno 10 anni e verrà dato una sorta di premialità con un punteggio aggiuntivo per chi è in graduatoria da più anni. Un'altra importante novità è quella che riguarda il possesso di beni mobili e immobili, non solo di chi farà domanda ma anche di chi è già assegnatario. Un'importante novità sarà la certificazione dei beni immobili o comunque di qualsiasi diritto di godimento su immobili ad uso abitativo sia in Italia che all'estero. E questo non riguarderà solamente coloro che faranno domanda per la graduatoria generale ma anche per i già assegnatari, questo per una sorta di equità. Chi farà i controlli, il comune o Arezzo Casa? I controlli partiranno dal comune perché comunque il mio ufficio è diventato un ambulatorio di lamentele e di critiche per cui ovviamente in condivisione con Arezzo Casa perché di fatto il patrimonio è di proprietà del comune ma poi la gestione piena è di Arezzo Casa. Per cui ci sarà una sorta di condivisione di lavoro tra Arezzo Casa e il comune e me perché comunque poi la persona che vengono a cercare sono io e in prima persona mi adopererò per far le verifiche. Le domande potranno essere presentate da lunedì 15 febbraio e da ricordare che anche coloro che sono già presenti nella graduatoria dovranno ripresentare ex novo la domanda.